Erra Amara Anticipazioni. Quello che sto per svelarti ti lascerà completamente a bocca aperta. La nonnina farà una rivelazione scioccante a Demir che cambierà totalmente la storia di Terra Amara. Se sei curiosa di sapere di che si tratta, rimani fino alla fine e non te ne pentirai. Kukurova diventa il palcoscenico su cui si muovono personaggi complessi e profondamente umani. È in questo scenario vibrante di emozioni e intrighi che emerge una verità tanto sconvolgente quanto inattesa. Durante una cena familiare, la nonnina rivela a Demir un segreto che scuote le fondamenta della loro esistenza. La tragica dipartita di Umit è stata causata da Zuleia. La nonnina espone la realtà dei fatti in un contesto apparentemente tranquillo, una confessione che scatena onde d'urto emotive. Le parole pronunciate con una calma che contrasta drammaticamente con il loro contenuto cadono come gol. pesanti in uno stagno. Demir, di fronte a tale rivelazione, si trova in una posizione di estremo conflitto interiore. La sua reazione è di totale incredulità, rabbia, dolore e forse anche una comprensione amara di ciò che ha spinto Zuleia a compiere un atto così estremo. La cena, che inizia come un rituale di connessione e di familiarità, si trasforma in un teatro di rivelazioni che getteranno ombre lunghe e oscure sui giorni a venire. La trama di «Terra amara» si srotola come un lungo e intricato filo che intreccia le esistenze di Zuleia e Umit, due figure femminili di forza e determinazione, i cui destini si scontrano in una lotta carica di una tensione quasi tangibile. Il loro conflitto, radicato in una rete complessa di malintesi, gelosie e desiderio di vendetta, evolve inevitabilmente verso un incontro drammatico e fatale. Sono donne le cui vite sono state segnate da sfide e tribolazioni, che ora si trovano sui lati opposti di una lacerante divisione. La loro disputa, radicata in una storia di dolore condiviso e rancore accumulato, cresce in intensità come un vortice emotivo. È una contesa che va oltre l'individuale, parlando di lotte di potere, tradimenti e incomprensioni che hanno lasciato cicatrici profonde nelle vite di entrambe. Il confronto tra le due donne si sviluppa in uno scenario che ricorda una tragedia greca, dove il destino gioca con le vite umane, portandole verso un destino già scritto. Ogni gesto e parola tra Zuleia e Umit è carico di significati nascosti. Ogni sguardo e movimento è intriso di una storia non detta. Zuleia, sopraffatta da un'ondata di ira e disperazione, estrae una pistola. In quel momento, Zuleia compie l'irreparabile. La pistola fredda e impersonale nelle sue mani tremanti diventa lo strumento di un destino inevitabile. Il grilletto viene premuto quasi in un rito funebre, e la vita di Umit si spegne, lasciandola in una scena di desolazione e sofferenza, quasi irreale. Il sangue, simbolo viscerale di vita e morte, segna il luogo del loro ultimo incontro, testimone muto di una fine che si annuncia come un eco lontano. Questo atto finale è una tempesta emotiva che si abbatte non solo su Zuleia, ma anche sugli spettatori, colpiti dalla violenza dell'azione e dalla disperazione. Non è solo la fine di un confronto, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo di dolore e di domande senza risposta. L'immagine di Umit priva di vita diventa un simbolo potente del prezzo che a volte si deve pagare per la passione, l'orgoglio e la vendetta. La narrazione di Terra Amara continua a intrecciare la sua tela, catturando l'immaginazione e le emozioni degli spettatori con la promessa di ulteriori sviluppi altrettanto avvincenti e commoventi. Il culmine di questa tragedia è anticipato dal rapimento del piccolo Adnan, figlio di Zuleia, un atto vile che porta la storia a una svolta cruciale. Il rapimento è orchestrato da Umit, animata dal desiderio disperato di scoprire cosa sia accaduto al suo amato Demir e perché le sue tracce si siano perse nei meandri di Cucurova. Questo evento innesca una reazione a catena che spinge Zuleia a intraprendere una ricerca frenetica del figlio rapito, una ricerca che si trasforma in una caccia all'uomo. Con la determinazione di una madre che non conosce ostacoli, la tensione cresce quando Zuleia riceve una chiamata da Umit che confessa il rapimento e esprime la sua richiesta di verità. La rivelazione di Umit scatena in Zuleia la consapevolezza che la situazione è molto più grave di quanto immaginato, e la figlia di Sevda, già nota per essere una minaccia, potrebbe rappresentare un pericolo letale per suo figlio. Zuleia rintraccia Umit e tra loro esplode uno scontro infuocato che culmina con un tragico epilogo. Zuleia, armata e irremovibile, punta l'arma contro Umit e in un istante fatale spara, segnando così la fine di Umit. Zuleia, con la forza di un uragano, cerca disperatamente di localizzare suo figlio Adnan, ma il peso della sua azione inizia a gravare sul suo cuore. Con un tormento crescente, è una corsa contro il tempo in cui ogni secondo conta e la tensione è palpabile. La mente di Zuleia è invasa da un unico assordante pensiero, la paura e l'angoscia la consumano, e i suoi passi risuonano come un eco della sua battaglia interiore. Il suo unico obiettivo è trovare Adnan, ma la consapevolezza del suo gesto, l'uccisione di Umit, è un fantasma che l'ha perseguita. Finalmente incontra Fikret e Fekeli. Le sue spalle si curvano sotto il peso insostenibile della verità che sta per rivelare, con gli occhi che cercano disperatamente quelli dei suoi confidenti. Zuleia si apre in una confessione che brucia le sue labbra. Ho ucciso Umit. Le parole cadono come macigni, rompendo il silenzio con la forza di una verità troppo grave per essere contenuta. La rivelazione di Zuleia non è solo l'ammissione di un delitto, ma è anche un'espressione di una vulnerabilità profonda, una ferita aperta che mostra il suo lato più umano e fragile. Fikret e Fekeli rimangono immobili, ascoltando le parole che sembrano troppo grandi per essere vere. La confessione di Zuleia, carica di dolore e pentimento, è un momento che rimarrà impresso nelle loro menti. Un momento che trasforma tutto ciò che conoscevano o credevano di sapere sulla donna che hanno davanti. Una donna travolta da un destino troppo crudele. Colpita da un attacco di panico dopo l'atroce confessione, Zuleia viene assistita da Fikret e Fekeli, che si trovano di fronte non solo a una donna devastata dal rimorso, ma anche alle implicazioni di un gesto che potrebbe cambiare per sempre le dinamiche di Cucurova. La confessione della nonnina non è solo una rivelazione di un crimine, ma un momento di verità che risveglia i personaggi e gli spettatori alla complessità delle passioni umane. Qual è la tua impressione? Se vorresti il continuo della storia, scrivi, sì, nei commenti. A presto ciao! Grazie a tutti!